ed eccoci come promesso nel nostro spazio con l'inca però sempre dedicato ai pensionati pensionandi con novità molto importanti anna bilato ci supporta anche questa settimana coordinatrice regionale inca patronato della cgl del veneto e con lei apriamo anche il capitolo dell'ape social cosiddetta che cos'è da quando si è attivata è operativa conviene non conviene e facciamo un po un parallelismo e riprendiamo anche il filo del discorso non fatto tempo addietro relativamente invece all'ape social che avevamo visto quindi l'ape volontaria per social quindi sono le due e le due che andiamo ad affrontare insieme perché volontaria chi la può fare chi ha diritto perché la social sociale insomma invece chi sono le categorie che possono accedervi non è tutto scontato ci sono anche dei termini per quello ne parliamo adesso la cosa anche importante e allora la patata bollente la scaraventiamo la nostra responsabile facciamo il parallelismo l'ape sociale e l'ape volontaria esatto l'ape volontaria è in qualche modo una diciamo un'azione che fa il lavoratore lavoratrice che deve avere comunque delle condizioni sia in termini anagrafici una condizione diciamo di età e di anzianità contributiva e stiamo parlando di per soggetti che devono avere 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi per quanto riguarda l'ape volontaria mentre il requisito è diverso per l'ape sociale l'ape volontaria è nient'altro che una richiesta di un attivazione di un prestito ok per poter accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia e perciò avere in anticipo un trattamento pensionistico che avrebbe un singolo lavoratore lavoratrice avrebbe all'età di 67 anni di fatto dal 2019 abbiamo già i 67 anni di età come requisito anagrafico richiesto di averlo in anticipo in virtù di questa diciamo prestito vero e proprio che viene a seguito di una diciamo di un accordo di un contratto che viene sottoscritto con una banca piuttosto che una con un'assicurazione in modo tale che poi l'inps al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia tratterrà dal trattamento pensionistico aspettante le rate di rimborso di quel prestito che è stato erogato anticipatamente questo è diciamo l'impianto allora qua sembrerebbe tutto quanto tranquillo scontro ma così come sempre esatto allora innanzitutto tanti giustamente si pongono l'osservazione ma quale banca quale istituto di finanziamento a quali condizioni i tassi posso scegliere o non posso sceglierlo e il rimborso quanto va a intaccare la mia pensione e quindi sostanzialmente a chi può convenire farlo cioè c'è un tetto sotto il quale è meglio neanche andare a toccare perché sennò si rischia anche per quanto riguarda diciamo l'APE volontaria è previsto tra l'altro un importo minimo che deve essere uno deve raggiungere un importo minimo di pensione per poter attivare questa procedura e stiamo parlando di 1,4 volte l'importo dell'assegno sociale e siamo intorno ai 700 euro lordi perciò diciamo devi avere comunque un importo che superi questa cifra di pensione di vecchiaia qui bisogna fare le simulazioni ci sono bisogna fare dei calcoli bisogna ogni caso deve essere valutato singolarmente bisogna capire se appunto c'è esiste o non esiste un vantaggio un vantaggio economico diciamo che noi sicuramente come organizzazione quindi la simulazione dei casi è importantissimo cioè andatevi a fare la simulazione perché solo in virtù di questa potete con tranquillità fare una scelta consapevole che dopo uno non si faccia l'illusione senza aver visto che magari porta a casa pochi soldi perché poi va a intaccare per le restituzioni o comunque voglio dire il costo può essere anche degli interessi può essere non vantaggioso ecco bisogna fare dei calcoli e valutare correttamente diciamo che noi come organizzazione sindacale per quanto riguarda l'ape volontaria non l'abbiamo mai sostenuta non abbiamo mai ritenuto insomma che fosse una forma reale di sostegno e di reale accompagnamento diciamo alle persone che si trovano in determinate condizioni altra cosa invece è l'ape sociale che allora ha un altro diciamo impianto un altro obiettivo e un altro tipologia di intervento che abbiamo già sperimentato nel 2017 e che si ripropona e che funziona anche se diciamo che i numeri rispetto alle domande presentate non hanno poi portato le aspettative che avevamo perché vi do alcuni numeri per quanto riguarda il Veneto che sono interessanti sono state presentate complessivamente nel Veneto 6.713 stanze ma purtroppo complessivamente tra apie sociale e precoci le accolte però sono state soltanto 2.453 Capita pochissime Sì 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 Ma perché? Perché le domande presentate e le condizioni che venivano che sono state introdotte sono state talmente diciamo restrittive che diventava difficile avere tutte quelle condizioni che diciamo Esatto Al governo che fa promesse e che poi non Ora nel 2018 qualcosa è cambiato in termini diciamo di requisiti e di condizioni per poter accedere speriamo adesso che le percentuali per il 2018 siano diverse di quelle che abbiamo visto nel 2017 rispetto alle accolte dell'anno scorso Brevissimamente vi riassumo cos'è l'ape sociale cosa dici? Assolutamente sì riprendiamolo così facciamo un po' il punto della situazione Un po' il punto della situazione Ci possiamo far supportare anche questa volta magari dalla regia che ha delle slide che noi percorreremo velocemente ma cercheremo di essere più chiari possibile anzi cercherà il più possibile visto che è l'onere Allora l'ape sociale è di fatto un'indenità un'indenità che viene corrisposta è una forma di ammortizzatore sociale se vogliamo Un'indenità che viene corrisposta dall'Inps Alle persone che devono avere determinate condizioni e che devono avere un'età minima di 63 anni Devono trovarsi in una condizione in termini di anzianità contributiva di 30 anni di anzianità contributiva con determinati requisiti E che poi li vediamo quali sono questi requisiti In alternativa ai 30 anni devono avere 36 anni e svolgere altre diciamo delle attività particolarmente difficoltose e gravose Che sarebbero, quali sono proprio velocemente? Velocemente, sono diverse comunque sono gli operai che lavorano nell'edilizia, i conduttori di gru, i macchinari per la perforazione delle costruzioni Chi concia e lavora le pelli, i conducenti di convogli ferroviari, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche Però che lavorano a turni e ostetriche che lavorano a turno o un sistema diciamo di turnazione Questi elenchi ci sono? Sono parecchi e tra l'altro si sono poi aggiunti quest'anno nel 2018 altre quattro tipologie di lavorazioni Che erano escluse nel 2017 che secondo noi insomma era un grosso problema il fatto che non fossero stati contemplati Perché stiamo parlando di lavoratori in agricoltura e chi più di loro insomma avrebbe bisogno Esatto, i pescatori della pesca costiera, chi lavora nel settore siderurgico E i marittimi imbarcati a bordo diciamo dei trasporti in mare Queste sono le condizioni del lavoro, cioè questo è l'elenco in parte insomma delle difficolture Esatto, l'indenità viene corrisposta per 12 mesi all'anno ed è erogata per un importo massimo di 1500 euro lordi Perfetto, però insomma è già qualcosa di importante perché altrimenti questi lavoratori sarebbero stati un po' penalizzati Dal 2018 inoltre c'è una novità interessante per le lavoratrici perché quei due requisiti che vi dicevo prima Dei 30-36 anni possono essere ridotti in virtù della, diciamo in base a quanti figli una lavoratrice ha avuto nell'arco della propria vita Sono praticamente 12 mesi di riduzione per ogni figlio per un massimo di due anni E in sostanza può essere richiesta l'ape sociale a questo punto appunto nel caso di una lavoratrice con due figli Con 28 anni di contribuzione anziché i 30 oppure 34 anziché i 36 anni Insomma un vantaggio c'è qua in sostanza correttamente E vediamo adesso chi può fare richiesta di questa app E chi può fare richiesta? Richiesta, ecco sottolineiamo il fatto della richiesta Ecco, non tutti possono accedere pur avendo quelle condizioni ma i lavoratori e le lavoratrici si devono trovare almeno in una di queste condizioni Cioè essere disoccupati Ed essere disoccupati a seguito di un licenziamento individuale o collettivo o un licenziamento per risoluzione consensuale Trovarsi in alternativa a questa condizione di disoccupato Trovarsi nella condizione di assistere a una persona portatore di handicap E nel 2018 hanno ampliato la condizione diciamo del familiare che mentre prima era inteso solo il familiare parente di primo grado Da quest'anno è stato ampliato diciamo la platea di soggetti affetti da handicap che possono essere appunto anche gli affini di secondo grado purché ci sia sempre la convivenza I lavoratori che si trovano in una condizione di invalidità civile superiore al 74% E poi quei lavoratori che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi Che sono quella diciamo quell'elenco che brevemente ho riassunto ma che in realtà insomma poi si trova facilmente anche insomma Si trova, si trova quindi questa cosa qui Le diciamo anche quali caratteristiche che devono avere questi lavoratori precoci? Ecco, i precoci Non tutti quindi Esatto, è un'altra condizione che si di fatto introdotta con la legge di bilancio del 2017 E l'APE sociale e i precoci hanno sempre viaggiato alla stessa condizione Anche in termini di finanziamento da parte della legge appunto sia del bilancio del 2017 e del 2018 Ma anche in termini di modalità e tempistica con cui presentare le istanze Stiamo parlando in questo caso però non più di lavoratori che devono avere una certa età anagrafica ma bensì una certa anzianità contributiva Ecco la differenza sta in questo I precoci sono quelli che hanno una certa anzianità contributiva e sono sganciati dall'età anagrafica Mentre l'APE sociale che abbiamo appena visto è più diciamo un requisito di avvicinamento alla pensione di vecchiaia Qual è il requisito che deve avere? Chi è precoce? Ecco questa è la domanda È precoce quel lavoratore e quella lavoratrice che si trovano ad avere almeno un anno di contributi versati prima del diciannovesimo anno di età E possono in virtù di questa condizione di precocità accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione Perciò un requisito ridotto rispetto a quello di 41 anni e 10 mesi per le donne che viene richiesto oggi per la pensione anticipata Oppure 42 anni e 10 mesi per i maschi Però non è sufficiente solo trovarsi nella condizione Quindi non tutti possono fare richiesta anche se in queste condizioni Infatti i numeri di prima ci hanno fatto capire che scartati ne hanno tantissimi Un terzo ha avuto accesso quindi due terzi scartati E quali sono gli ulteriori requisiti? Essere appunto disoccupati con determinate condizioni appunto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento di emissioni Desso giusto per capirci anche rispetto allo scarto che c'è stato nell'anno scorso Se noi parliamo di disoccupati e la norma non contempla ad esempio i disoccupati a seguito di cessazione di un contratto a tempo determinato E questo è il motivo anche per cui molti hanno fatto richiesta ma in realtà sono stati esclusi perché erano sì disoccupati Ma quella disoccupazione non veniva da un licenziamento Ma dal termine di un contratto E' ovvio che sappiamo poi tra l'altro quanti sono i contratti a tempo determinato da noi E sono molti molti di più che non i contratti a tempo indeterminato Che sono quelli che poi avrebbero generato il diritto ad accedere alla condizione di precocità piuttosto che di ape sociale Questo è uno dei tanti motivi per cui ci sono state tantissime respinte da parte dell'Inps E appunto pochi che hanno potuto accedere a questi benefici Uno degli impasse quindi che sono stati questi Esatto Perché teniamo conto che tutti questi requisiti devono coincidere Assolutamente Cioè ce n'è uno o un altro, sono requisiti che devono coincidere Assolutamente Ricordo poi infine che ci sono due prime scadenze Che è il primo marzo 2018 Per quanto riguarda le domande dei lavoratori precoci E il 31 marzo del 2018 per l'ape sociale In realtà queste sono due prime date Perché poi le domande si possono fare anche successivamente Entro il 30 novembre del 2018 Chi però inoltre la richiesta entro queste prime due date Assume diciamo un termine di prevalenza Una gradatoria diversa rispetto alle gradatorie che si andranno a creare Con il secondo step delle scadenze 30 novembre Perché appunto una volta inottata la domanda L'Inps le esamina, le istruisce e crea delle gradatorie Rispetto poi al riconoscimento e poter richiedere effettivamente Sulla base delle risorse che sono state stanziate Se una persona però dice ma mi sono accorto tardi La faccio adesso però tutti i requisiti Calcolando che tanti ne vengono scartati Può darsi che rientri ugualmente Esatto Oppure automaticamente è uno sbarramento No 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 non è uno sbarramento Quello che appunto è uno primo step per creare una prima gradatoria Ma avendo visto poi i dati che abbiamo esaminato nel 2017 Su questa prima diciamo esperienza Che non è stata sicuramente facile da gestire Sicuramente il margine poi per poter rientrare C'è comunque Quindi non terrorizzatevi se è fuori data Ma rivediamo questi concetti Proprio per l'importanza di comunque presentarla Farsi valutare tutta la propria posizione pensionistica Andare all'Inca per vedere se ci sono tutti i requisiti Quindi senza preclusioni Perché magari una persona pensa di essere esclusa Poi magari ci rientra eccetera La cosa non è semplice Assolutamente Per farlo Quindi noi raccomandando questo di fare grande attenzione Non perdere la speranza che è altrettanto importante Chi l'ha presentato un anno e è stato scartato La può ripresentare anche quest'anno Quelli che sono infatti noi andremo a molto ripescare Dalle liste del 2017 Perché appunto quelle condizioni che magari appunto Hanno stato oggetto di respinta per l'anno precedente Essendoci state alcune modifiche nel 2018 Diciamo che hanno migliorato la condizione Anche i requisiti per il 2018 Andremo a ripescare quei nominativi Per poter riproporre nel 2018 Quelle domande che appunto sono state respinte nell'anno precedente Importantissimo Allora attenzione Chi è stato scartato Ritornare o rifarsi vivi Assolutamente Perché può essere il ripescaggio Esatto Grazie Anna Vilato Grazie a voi di averci seguito Grazie Naturalmente dopo la pubblicità Noi ci rivediamo in studio Con gli ospiti per l'approfondimento Grazie 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 a tutti.